Siamo Francesco, ho rilevato la gestione nel 2015 di un'antilità che c'era dagli anni 30 del secolo scorso e qui facciamo pizzeria Trattorio, in pizzeria cuociare la pizza nel forno a legna e facciamo alcuni tipi di spaghetti, i primi, visto che siamo in un paese di confine tra Toscana e Romagna, abbiamo dei primi fatti in casa, alcuni della tradizione mugellana e altri della tradizione romagnola, tipo dal tortello di patate con la cinghiale fino ai passatelli alla Spoglia Lurda. Questo è il nostro forno a linea. Grazie. 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 Grazie.